Visibilmente ubriaco aveva preso a infastidire gli avventori di un locale notturno di Scoglitti. All'arrivo di una volante della polizia, per nulla contento, avrebbe cominciato a profferire frasi ingiuriose all'indirizzo degli stessi agenti intervenuti. Per questo un cittadino rumeno di 38 anni è stato denunciato a piede libero alla competente autorità giudiziaria. L'operazione rientra in un più ampio quadro di servizi di controllo predisposti dal questore di Ragusa Filippo Barboso nel territorio iperino, che ha visto l'opera 20 pattuglie della polizia e ha portato al controllo di 175 persone e 80 veicoli. Quattro le persone denunciate, oltre al cittadino rumeno in questione, è stato segnalato all'autorità giudiziaria un pluri pregiudicato vittoriese di 49 anni, fermato in via Papa Giovanni al volante di un'auto, sequestratagli meno di un mese fa. Stessa sorte è toccata anche a un pluri pregiudicato cinquantenne, sorpreso alla guida di una tipo, sprovvisto di patente di guida e assicurazione. In osservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa dei doveri inerrenti alla custodia di cose sequestrate, sono invece i capi d'accusa per cui è stato denunciato un pregiudicato vittoriese di 54 anni. Anche lui, trovato al volante di un mezzo sequestrato, gli è privo di patente. Infine, nell'ambito dei controlli antidroga, un ragusano di 25 anni è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore di stupefacenti, al lato del controllo era in possesso di una dose di roina.